goa mamma capalo bello a tutti ragazzi sono rando87 e oggi sono qui con un nuovo video ragazzi e oggi sono in compagnia di fabix saluta e oggi siamo qui in una gara che faremo io contro di lui ma perchè c'è ragazzi fabix ha scelto la gara lui ok e poi va a scegliere i sup stai scherzando io adesso non so quale prendo, prendo questo qua che mi ispira di più, lo prendo nero perché è più sexy non è scassone scassone poi a qualcosa oh te l'hai che copione oh è l'unica macchina forse decente di super dai se va a battere tutta fiera a giocare se sei solo copiare se è scassone vuole battermi guarda guarda che fa anche l'accelerazione sbagliata oh te sei menchia ti rompa ma... oh te rompa macchina oh no non c'è scasso tutto vuole torce minchia dalle curva giallo dalle curva come ti sei macinato in curva ah! eh mi sa che ti sei macinato tu in curva bastardo io sto già sporcando la macchina che prego sta diventando tutta sporca dai fabi scuola vedo che non vedo che non ce la fai più e ora aggiungerlo allora tutta sta cattiveria tira lo fuori dai su 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 vora v guarda guardate dietro va a essere il signore va a fare questo è il signore si è l'aiuto di giusto triste che ho dato una mano quanti giri hai messo giusto per stavere? ah non ce lo dico allora ci guardo eh è l'ultimo giro non te lo dico eh si ma tu spondi pure i paletti se vuoi tu non mi prendi eh grazie a cazzo ricchione bastardo mazzati si ai canji stavolta non la prendo la rampa perchè si tarda un po' di giusto ricchione? oh ancora buca eh eh tiro dritto gitto io non ho tirato dritto ahahah attenzione chi è il campione chi è il campione attenzione ammazzati solo perchè ho sbagliato e che ti venga anche tu venga anche tu addosso dai fermi giusto ops prima arrivato saluta prenditi questo giallo guarda bella bella sultanza guarda bella sultanza giallo guarderò 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 ben sei tu che bella cosa eh eh sicuramente mi banneranno il video va bene ah non mi piace dai io faccio aggiungi preferiti credo che si può fare con la q lb e poi faccio anche tri c'è y vabbè vabbè casi eh ragazzi adesso si farà un'altra gara e vediamo la prossima gara chi vince vince tutto perchè è la terza vediamo la prossima gara punto ok ragazzi eccoci qua nella terza gara vabbè era la prima esattamente in teoria è la prima perchè Fabix abbiamo la stessa macchina perchè abbiamo deciso così è corso GTA non so che cara sia perchè è la scelta di nuovo Fabix il bastardo oh aspa no aspa però questa gara si fa tutti insieme invece dobbiamo stare accanto dobbiamo stare pure accanto eh dovrebbe essere la bella dobbiamo stare pure accanto capito ragazzi si perchè lui dice così lo sapevo lo sapevo chi mi lancia i ragazzi lo sapevo lezzo BOLAI BOLO per fortuna che non hai aspetta non ho capito cosa che hai detto l'albero albero so che non a me biondi che esplodono a che volta ti becchierò hai detto bene qualche volta ma cioè mai incondiscono l'uomo l'uomo ma c'è non c'è niente non c'è troppo sicuro senti il botto caballo senti il botto caballo se sei dietro di me senti caballo il botto quanti giri ha ancora emesso? 2 oh pensavo che ce l'ho lupo a spacciarlo che mi aspetti no non ce n'è lupo ma c'è ma sti così qua sono fatti cemento di ferro bastardo bastardo dai sono ancora prima grazie sai cosa vuol dire? però ti ho preso te l'avevo promesso non ci credo non ci credo non ci credo ho sbagliato checkpoint oh ma te lo giuro ma tu vinci soltanto perché io sto pensando c'è tipo a prenderti a fare queste cose qua ma va ma non ci credo ho sbagliato checkpoint ma guarda che f*** di chi era ma è bello che non lo faccio apposta e non lo faccio apposta oh randa bye bye si sta voce sexy però evitalo cioè madonna santo ma che non lo so 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 cosi facili signori eh ma veramente tu c'è veramente in sicilia c'è Gesù ma qui c'è un mistero non possono aooo guarda vedo il promesso che ti avei preso con i rod i promesso lo ho f*** a sbattere ma vaffan di culo ma ma porca miseria ma sti cazzo di cosi ma non è possibile gli sto prendendo tutti sti cosi eh si è una niente vabbè in erlanda avete visto che è scarso e ne ho vinte due le ho vinte solo una quindi 2 a 1 si ragazzi soltanto per culo li ha vinti li ha vinti soltanto per culo e si vedrà nel video si vedrà vabbè ragazzi questo è tutto insomma se ci vediamo al prossimo video si posso finire no se il video vi è piaciuto lasciate un'altra video lasciate dislike e disiscrivetevi dal canale di Fabix e invece iscrivetevi come al solito e niente ragazzi noi ci rivediamo con un prossimo video bello a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.